La raffinatezza italiana ammizzata all'esotica architettura TAI fa da sfondo al primo appuntamento pubblico di Francesco. La gigantesca statua di Brama osa sfidare il ritratto di Rama X che sorveglia, regale la cerimonia di benvenuto alla Governmental House. Ad accogliere il pontefice e il generale Prayuth Chanocia, autore dell'ultimo colpo di Stato nel maggio 2014, oggi il primo ministro, grazie alla vittoria, sospetta le ultime elezioni nel marzo scorso, inquinate da brogli e manovre. Incontro cordiale a porte chiuse, protocollo asiatico, emozioni trattenute e apparente distacco. Ritrosia solo stentata quando Francesco prende la parola, infatti nel salone dove sono riuniti i diplomatici e autorità civili, l'attenzione è massima. Francesco rende omaggio alla nazione multiculturale segnata dalla diversità impegnata a costruire l'armonia e la coesistenza pacifica tra le sue tante anime, ma invita alla corresponsabilità nel superare le diseguaglianze e soprattutto a lavorare per uno sviluppo umano integrale. Poi i riferimenti concreti a due tra i fenomeni più complessi, quello migratorio che ha portato in Thailandia centinaia di migliaia di profughi e rifugiati, in gran parte vietnamiti e cambogiani, e lo sfruttamento sessuale di donne e bambini, vera piaga del paese. Il Papa richiama ferite, abusi e violenza inferta, invitando a proteggere i piccoli, garantendo loro educazione e futuro dignitoso. Squarcia il velo di reticenza, frutto anche di interessate connivenze sul turismo sessuale e fa subito intendere che per lui schiavitù e tratta degli esseri umani sono emergenze da affrontare.